Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi parliamo di una delle più importanti novità introdotte da Adobe in Adobe Premiere 2020 A novembre si sono tenuti gli Adobe Max 2019 A novembre è uscita anche la nuova versione di Adobe Premiere Non ci sono novità eclatanti, va subito detto Ma alcune funzioni sono veramente molto molto utili per coloro che lavorano con i social network Per i videomaker che devono produrre contenuti non soltanto per la televisione Ma anche ad esempio per i dispositivi mobili come i cellulari o i tablet e così via La novità più interessante che andremo a vedere quest'oggi si chiama Auto Reframe E fa qualcosa di veramente eccezionale Facciamo un esempio pratico così vi faccio capire Innanzitutto che cosa fa questa questa funzionalità questa nuova funzionalità di Adobe Soprattutto perché la ritengo così inutile al lavoro di un videomaker Allora creiamo subito una timeline e prendiamo questo video Il video di un gabbiano di Roma che beatamente passeggia e prende il volo Va benissimo questo frammento di video Lo portiamo in timeline Li avviso e mi informa che il video sorgente è differente dalla risoluzione della sequenza E mi chiede cosa voglio fare Voglio mantenere le cose così come stanno E do ok ed eccoci qua Chi si occupa di videomaking e lo fa a livello professionale spesso e volentieri ha l'esigenza di esportare un contenuto Non soltanto per un monitor televisivo piuttosto che per un monitor di un computer Ma anche e soprattutto per i social network Qual è la caratteristica principale dei video che devono essere esportati per i social network? Ebbè che i dispositivi mobili, i nostri cellulari, non hanno un aspect ratio orizzontale come può essere un televisore Ma appunto sono dispositivi il cui schermo viene tenuto spesso in verticale Quindi l'esigenza di un videomaker è spesso quella di creare dei video praticamente chiamati verticali Quindi con una risoluzione invertita Invece che essere 1920 pixel in orizzontale per 1080 pixel in verticale Le proporzioni sono invertite Quindi noi dobbiamo creare una sequenza 1080 pixel in orizzontale per 1920 pixel in verticale Abbiamo visto nel corso di montaggio video con Adobe Premiere Come fare questa operazione praticamente a mano Quindi abbiamo visto che abbiamo dovuto creare una nuova sequenza da capo Andare nelle impostazioni Scegliere la modalità di montaggio personale E invertire la risoluzione del nostro frame Quindi invece che 1980 pixel in orizzontale ne mettiamo 1080 Invece che 1080 pixel in verticale ne mettiamo 1920 Clicchiamo ok e abbiamo creato sostanzialmente un video verticale Vi ho detto che poi per poter lavorare il video su questa sequenza bisogna chiaramente adattarlo E quindi bisogna scalarlo per farlo come si dice Combaciare per farlo entrare perfettamente all'interno di questa sequenza Ecco che abbiamo fatto il nostro video verticale pronto per essere distribuito nei social network Oh fantastico Questa operazione è molto semplice Però immaginate di doverlo fare per ogni video che esportate Soprattutto immaginate di doverlo fare ad esempio per un intero documentario che avete realizzato Dovete andare lì clip per clip Aggiustare, accomodare la risoluzione Diventa spesso e volentieri un lavoro sicuramente molto lungo e tedioso Questo lo sanno gli sviluppatori Adobe che ci hanno fatto un grandissimo regalo Il regalo si chiama Auto Reframe Che cosa fa l'Auto Reframe? Fa esattamente quello che abbiamo fatto noi Ma in più applica una tecnologia innovativa Adobe chiamata Adobe Sensei È un motore di rendering, è un motore di calcolo proprietario Adobe Che sfrutta l'intelligenza artificiale e il machine learning Sostanzialmente per prendere un video orizzontale Trasformarlo in verticale Prendere il punto di maggior interesse e tenerlo sempre al centro Cosa vuol dire? Facciamo un esempio Prendiamo il video di prima Quindi prendiamo il video del nostro gabbiano E vediamo un attimino un punto che può essere utile Eccolo qua Facciamo finta che noi vogliamo trasformare questo video Da orizzontale a verticale Ok? Il gabbiano vola via Noi importiamo il nostro video nella nostra timeline Così come abbiamo fatto prima Andiamo nel nostro pannello progetto E selezioniamo la nostra timeline che abbiamo creato Con il nostro video all'interno Quindi questa è la sequenza che abbiamo creato E dove c'è il nostro video all'interno Clicchiamo con il tasto destro del mouse E scegliamo la voce Nuova voce disponibile in Adobe Premiere 2020 Quindi se avete un Premiere più vecchio 2019 o precedente Dovete aggiornare per avere questa funzione Applica Reframe automatico a sequenza Verrà aperta una nuova finestra Questa finestra sostanzialmente ci chiede Come vogliamo rinominare la nuova sequenza Che andiamo a creare Lasciamo le impostazioni così come sono Va benissimo questo nome Che risoluzione volete dare A questa nuova Alla nuova sequenza che volete generare Volete creare una sequenza quadrata Le sequenze quadrate vanno benissimo per esempio per Instagram O una sequenza per esempio verticale 9 sedicesimi Ecco nel nostro caso va benissimo Verticale 9 sedicesimi I contenuti all'interno del nostro video Sono abbastanza abbastanza rapidi Quindi nei predefiniti Di movimento scegliamo il movimento più veloce Perché il gabbiano si muove abbastanza rapidamente Quindi dobbiamo dire a Premiere Vedi che le azioni sono abbastanza veloci Devi adattarti Lasciamo il resto delle impostazioni così E premiamo Crea Guardate cosa accade Ecco Adobe ha fatto la magia Il nostro gabbiano è perfettamente al centro della nostra scena Togliamo l'audio Che tanto in questo caso non serve Ma andiamo in play E come potete vedere Il nostro gabbiano resta sempre il centro dell'azione Ma la cosa più importante è che Premiere ha trasformato un video Che prima era orizzontale in automatico in un video verticale Voi non avete dovuto fare assolutamente niente Ha fatto tutto Adobe Ma ipotizziamo di poter trasformare una sequenza da orizzontale come questa a quadrata Per esempio perché vogliamo esportare il video per Instagram Facciamo la stessa operazione Applicare dimensione fotogramma automatica Applica rifrema automatico a sequenza Scusate Scegliamo la voce Chiaramente proporzione quadrata Uno a uno Possiamo lasciare il nome così O possiamo rinominare la sequenza Questa è la nostra scelta Continuiamo a dire a Premiere che il movimento È abbastanza veloce all'interno della nostra sequenza E clicchiamo Crea Bam Abbiamo creato una sequenza quadrata Che può essere condivisa quindi su Instagram Ma la cosa più importante è che il nostro gabbiano Resta sempre al centro della nostra scena E questo lo fa tutto Adobe Come fa Adobe? Andiamo a vedere i keyframe Vedete che Adobe qui ha creato dei keyframe Perché Adobe automaticamente sposta il fotogramma del nostro video Per fare in modo che il nostro gabbiano sia sempre al centro dell'azione Dovete dire grazie Dovete ringraziare la tecnologia Sensei di Adobe Che è il motore che si trova dietro a questa operazione Ok? In poche parole Adobe Capisce qual è O meglio Premiere Capisce qual è la porzione di frame Più interessante per lo spettatore E fa in modo di tenerla sempre sempre al centro Qui stiamo lavorando con un solo video Ok? E quindi chiaramente diceva E' semplice fare tutto con un solo video Cosa ci vuole Ma ipotizziamo di avere una sequenza con più video Quindi mettiamo il mio video di me che parlo E mettiamo poi il video del gabbiano Ok? Come si comporterà Adobe? Come trasformerà questa sequenza? Facciamo l'esperimento che abbiamo fatto prima Applica Rifrem automatico a sequenza Facciamo un video questa volta quadrato Lasciamo le impostazioni così come sono E premo ok Come potete vedere Premiere adatta la mia immagine per metterla al centro E anche il gabbiano viene riadattato E viene mantenuto al centro Questa è una funzionalità molto utile Per chi deve lavorare con i device mobili Quindi cellulari e tablet E' un'impostazione molto comoda Per chi deve esportare video per i social network Per esempio per Instagram Quindi ringraziate Adobe per questa nuova funzionalità E' tutto per questo video tutorial Continueremo presto il corso di Adobe Premiere Parleremo di color correction nei prossimi video Venite a visitare il sito fabioambrosi.it Completamente ridisegnato e ripensato E iscrivetevi ovviamente a questo canale Per non perdervi i prossimi tutorial A gennaio-febbraio faremo anche qualche video tutorial live Quindi continuate a seguirmi e restiamo in contatto Ciao!